L'Assemblea dei Soci di AIA, l'Associazione Jesolan Albergatori, ha ufficializzato la realizzazione della prima comunità energetica di Jesolo, che rappresenta anche il primo esempio per il settore balneare del Veneto e che prenderà il nome di Jesolo 0804 CER, ricordando la cabina primaria di fornitura elettrica della città. Il progetto, che rientra in un piano più ampio di sostenibilità ambientale, vede come soci fondatori AIA, Confcommercio e Confartigianato, affiancate dai partner Gruppo Regalgrid e Intesa San Paolo. In dubbio il traguardo è storico, ci abbiamo lavorato per un paio d'anni, ora invitiamo tutti i soci e i residenti del comune di Jesolo a guardare con particolare interesse questa comunità che può portare solo ed esclusivamente vantaggi. I vantaggi saranno soprattutto l'ottenimento di contributi da parte del GSE. Chi produce l'energia avrà sicuramente l'energia gratuita per quello che produce, ma poi ottiene tutta una serie di contributi aggiuntivi a seconda della cessione di questa energia ad altri soggetti che sono all'interno della comunità energetica. E tramite dei software particolari si riesce a definire quanto uno produce, quanto uno consuma e il contributo che viene riconosciuto. Ricordiamoci che il contributo viene riconosciuto alla comunità energetica. Sicuramente nel periodo invernale ci saranno produzioni che non verranno consumate, abbiamo pensato di donarla o comunque di cederla ad un prezzo di favore all'ente pubblico, alle scuole, ma anche ai residenti che ne abbiano particolari bisogno. Quindi di fronte a famiglie che ne abbiano bisogno, noi siamo ben consapevoli che possiamo dare un aiuto.